Ieri sera non è stata una serata molto semplice per Selvaggia Lucarelli che abballando con le stelle non può certo contare su volti amici. Oggi, a mente fredda, la giornalista ha commentato la situazione abballando con le stelle fra gli show di Iva Zanicchi, le offese di Guillermo Mariotto e il mancato supporto da parte degli altri colleghi giudici. Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca. È illusionismo. Il mondo sottosopra. C'è una concorrente. Iva Zanicchi. Che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra c asterisco z z i e maiali da settimane. È show. Dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo. Ok. Aspettiamo di vedere un futuro concorrente di La sai l'ultima? Gareggiare con un tango. Nel frattempo le scappano due tro asterisco a rivolti a una giurata. La giurata incassa ob torto collo. Del resto è un paese in cui se dici tro asterisco a una donna va bene fino alla prossima panchina rossa. La giurata accetta le scuse. E si va avanti. E ancora. Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola. Neppure quello paladino LGBT alla faccia della solidarietà nella discriminazione. Viene riaccolta con le fanfare. Anzi. La presidente di giuria la giustifica. In Veneto è un intercalare? Dice. La concorrente è Emiliana. Lucarelli. Mariotto in pubblicità è andato a fumare e rientrato mi ha dato della scimmia. Il racconto di Selvaggia Lucarelli prosegue così. Va quindi avanti con valli improbabili e barzellette sporche che forse per un po' divertono. Poi malinconiscono. La giurata ha avuto una settimana complessa. Fatto sta che ieri la concorrente racconta l'ennesima barzelletta sporca tra cappelle e organo del prete. La giurata dice che forse Iva poteva alternare tutto questo con corde più serie. Perché così diventa squallida. Nel senso proprio di ciò che è avvilente. Si va in pubblicità. Mariotto va a fumare. Rientra e a freddo urla. Come ti permetti di dare della squallida a questa signora A che nonostante i suoi problemi sta qui a sorridere, lei è? Non io, sei una scimmia che lancia escrementi ovunque. Chiudendo. E qui i piedi sono al posto della testa. Tutto capovolto. Iva Zanicchi difesa dal mio terribile. Squallida. E. Lei che nonostante il momento difficile è lì. Lei. Silenzio dei più. Giusto. Da altri lì seduti. Per un attimo mi sento suma oro. Penso. Lorenzo C. Asterisco ZZO. Cancella subito quelle scarpe Valentino da Instagram. Nessuno che provi a far notare che la realtà non è una clessidra. Se la giri non è uguale. È al contrario. Io nel frattempo vedo un sacco di piedi. Teste per aria. Anche tante persone a casa. Per fortuna. Vedono la stesa cosa. E un po' mi viene da ridere. Sembra una barzelletta. Meglio di quelle di Iva però. Razzo. Indubbiamente polemica. Ma sempre dalla parte giusta del racconto.